E' via giù! Piccola pietra al posteriore. Si sale fino in cima. Adesso piove anche ragazzi. Dopo la neve e il vento è ancora a 40 all'ora. Adesso dopo anche il sole. Adesso dà cenno di pioggia. Spero e credo che non manchi niente. Che può mancare? Un terremoto. Un meteo rate. Vulcani che non ce ne sono. Facciamo fare quest'altra spuriata d'acqua. E chiudiamo in bellezza. Al momento siamo a 10. Non è ancora tanto. Fatibile. 35esimo chilometro. 2 gradi. 14. Pendenza. Ci apprestiamo ad andare all'altro bosco. Quello su Via Matera. Ah. A proposito. Non sta piovento. E' di nuovo neve. Neve con ventoforti di tramontane. Ma si. Tanto la tachipirina a casa. Non vi dico come. A più tardi gente. Uh. Alla prossima. Alla prossima.